Salve a tutti! Buonasera! E allora il 24 luglio del 2019 ci troviamo a Villa Fabiana e abbiamo festeggiato le nozze di Davide e Loredana E allora sembra sia stata anche questa una bella festa, intanto finalmente siamo insieme che ieri ci siamo separati Per me è stata una bella festa per gli ospiti, è stata una bella festa, ma noi per sicurezza Chiediamola agli sposi! Eccoli qua! Ciao! Davide e Loredana, com'è andata? È stata una grandissima serata, ci siamo divertiti Però non dite bugia, dovete dire le cose... No, la verità, la verità! Io ogni tanto li sprovo per vedere No, no, assolutamente È andata bene? Benissimo Gli ospiti sono divertiti? Benissimo Abbiamo visto l'avvocato con tutti i complimenti L'avvocato in condizioni... L'avvocato non è dal tribunale Esatto, diciamo tutto quello che non rappresenta l'ambito forense questa sera c'è stato C'è stato, sì, sì Grazie anche a voi Grazie a voi, ragazzi Oggi rimarrà il nostro ricordo, spero, musicale per tanto tempo, per sempre, speriamo per sempre Per sempre, per sempre sicuramente Noi vi ringraziamo, vi auguriamo il meglio della vita Grazie, grazie, grazie E noi chiudiamo al solito il video con le nostre belle faccione E salutandovi, dicendovi sempre che con Tonino E con Valerio Si va in scena Si va in scena Grazie a tutti i nostri amici